Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Una nuova circolazione depressionaria sta portando maltempo sul nostro territorio. Infatti un fronte nuvoloso è in piena azione e lo sarà anche nella giornata di domenica caratterizzata dal maltempo, dalle precipitazioni talora abbondante, venti intensi in montagna e quota delle nevicate in progressivo calo da 1600 metri fin verso i 1200-1300 metri di altitudine. Questo proprio dovuto a questa circolazione depressionaria che posizionerà proprio il suo minimo fra il Golfo Ligore e il nord dell'Italia. Cosa cadrà invece durante la settimana? Ho indicato questa bassa pressione che via via traslerà verso est portando maltempo sulle nostre regioni centro-meridionali dell'Italia e un graduale ma molto lento miglioramento avverrà anche sul nostro territorio, saranno le nube comunque a prevalere per gran parte delle giornate della prossima settimana. Avremo anche l'arrivo di aria più fresca proveniente dai quadranti orientali che porterà un generale calo delle temperature sul nostro territorio orobico. Ma andiamo con ordine, vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani-domenica che vede maltempo, come dicevo in precedenza, su tutti i nostri settori. Piogge talora battenti, abbondanti e intense con uno zero termico posizionato intorno ai 1500 metri di altitudine e quindi una quota delle nevicate che durante la giornata sarà in progressivo calo intorno ai 1000-1200 metri di altitudine, un po' più in alto nella zona della Presolana intorno ai 1300-1400 metri di altitudine. Pioggia battente anche nella zona della medio-bassa valle seriana Lago di Seo con una ventilazione sostenuta di libeccio, quindi da quadranti sud-occidentali. Andiamo ora a vedere l'evoluzione del tempo per la settimana. Abbiamo indicato nella giornata di lunedì una giornata abbastanza instabile ma con una tendenza ad un graduale miglioramento un po' su tutti i nostri settori con un miglioramento che si avvertirà più nella seconda parte della giornata con qualche occasionale schiarita. Temperature a Clusone comprese tra i 4 gradi di minima e i 10 gradi di massima, zero termico intorno ai 1500 metri di altitudine. Martedì abbiamo indicato una giornata in prevalenza nuvolosa. Non avremo delle piogge, non avremo delle nevicate ma sarà una giornata comunque all'insegna delle nubi. Temperature abbastanza fresche per il periodo, comprese tra i 5 gradi di minima e gli 11 gradi di massima sull'alto piano di Clusone, zero termico in rialzo a 2000 metri di altitudine. Mercoledì sarà probabilmente la giornata migliore. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche locale a nuvolamento nel corso della giornata ma sicuramente una giornata dove prevarrà il sole. Zero termico in abbassamento a 1800 metri di altitudine. Temperature grazie anche al solleggiamento potranno toccare 14-15 gradi nella città di Clusone. Giovedì saremo raggiunti d'aria più fresca proveniente da est. Infatti vedete temperature minime in calo a Clusone intorno ai 2 gradi, un nuovo aumento della nuvolosità su tutti i nostri settori ma senza precipitazioni. Pressione atmosfere in calo a 1019 millibar. Questa aria fresca da est nella giornata di venerdì andrà a interagire con le nostre montagne aerobiche portando nella giornata di venerdì un po' un clima instabile con qualche occasionale piovasco e qualche rovescio di neve. Oltre i 1200-1300 metri di altitudine calo significativo delle temperature proprio per l'arrivo di questa aria più fresca di estrazione siberiana. Per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.